Come si stanno comportando secondo lei finora in questa emergenza sostanzialmente imprevedibile gli italiani? Gli italiani non credo che siano una categoria sindacale, quindi ci sono gli italiani meravigliosi che oggi stanno intubando una persona di 40 anni sperando di salvarlo, chapeau, quelli sì, quindi sono eroici, poi ci sono dei grandissimi coglioni che vanno al mare sugli scogli e che pensano che tutto questo sia una sorta di pagliacciata. Fino all'altro giorno avevamo i Novax, vi rendete conto? Io vorrei oggi che voi intervistate il capo dei Novax e sentire se ci fosse un vaccino oggi contro il coronavirus e lo facesse o no.